Le arringhe della difesa si concluderanno nella prossima udienza del 28 maggio, quando sarà la volta dei legali di Nicola Riva e di quelli dell'Ilva in amministrazione controllata. Questi ultimi attendono che il Ministero dello Sviluppo Economico li autorizzi a proporre istanza di patteggiamento. Infine, la parola al legale di Riva Fire. Terminata questa fase, il GUP Vilma Gilli fisserà le date delle udienze di repliche di accusa e difesa e quindi procederà ad emettere la sentenza per gli imputati che hanno fatto richiesta di rito abbreviato. Tra questi c'è Don Marco Gerardo, attuale parroco della Chiesa del Carmine, segretario personale dell'ex arcivescovo Benigno Papa. Per il prelato che in questa udienza ha rilasciato dichiarazioni spontanee, il procuratore aggiunto Pietro Argentino ha chiesto la condanna a due anni di reclusione senza la concessione delle attenuanti generiche. Don Marco Gerardo è accusato di favoreggiamento nei confronti dell'ex factotum dell'Ilva, Girolamo Archinà, per la vicenda legata ad una presunta tangente di 10.000 euro che sarebbe stata versata dall'Ilva ad un docente universitario, consulente della procura, al fine di ammorbidire una relazione sullo stato dell'ambiente. Don Marco ha sostenuto invece che la somma fu devoluta alla curia.